Io mi colloco al MEF, mi colloco a fare di conto. No, però, insomma, il MEF è stato uno di quei ministeri dove c'è stata più battaglia. Adesso lo possiamo dire tranquillamente, visto che comunque, insomma, gli scontri sono stati parecchi. Lei, prima dello strappo, insomma, del papete, chiamiamolo così o di Sabaudia, decidete voi qual è lo strappo, il posto che preferite, la spiaggia che preferite, e però, voglio dire, forse qualche mese prima Caravaglia già aveva lanciato degli allarmi? Allora, allarmi. Che c'era un problema di azione di politica dopo la legge di bilancio l'abbiamo visto. Abbiamo fatto una fatica enorme, per esempio, a portare a casa il decreto crescita, ma veramente difficoltoso su ogni singolo emendamento discutere pesantemente. Ho dovuto litigare per convincere a portare la deduzione integrale dell'Imu sui capannoni, cioè non far pagare più l'Imu sui capannoni. Ma ti pare che devi litigare su una roba del genere? Dovrebbero essere d'accordo tutti. Però, al di là di questo, perché questa è passata, noi dobbiamo guardare al futuro. Il futuro è molto semplice. La novità, che non tutti hanno percepito e continuano a non percepire, è che dietro Salvini la lega è assolutamente compatta. Noi con Salvini abbiamo discusso di queste cose, abbiamo trovato una sintesi e Salvini poi alla fine decide e siamo tutti d'accordo. Anche Giorgetti sulle modalità? Guardi, io e il mio amico Giorgetti siamo d'accordissimo e siamo d'accordissimo con Salvini su tutto quello che è stato fatto, per essere chiaro, così almeno è chiaro. E almeno questo non lo mettiamo più in discussione. Ma il punto vero è che mentre la lega è monolitica dietro Salvini, e adesso, vabbè, ci mandano all'opposizione, faremo l'opposizione. La sappiamo fare benino. Mi ricordo come abbiamo fatto saltare il governo Prodi e vedremo di fare in modo di far saltare anche questo governo. Però, al netto di questo, mentre da noi c'è un monolite, dall'altra parte si vedono delle crepe mica da ridere, perché Calenda non è l'ultimo del PD, Paragone non è l'ultimo dei 5 Stelle, eccetera, eccetera. Senta, grazie.